Montecchio Maggiore, individuati e sequestrati dai finanzieri all'interno di un negozio gestito da un cittadino cinese, oltre 400 prodotti di vario genere, ma tutti privi di doni e etichettature in lingua italiana che ne indicasse contenuto, provenienza, eventuale presenza di materiali o sostanze che possano arrecare eventuale danno all'uomo. Sanzionato con una multa da 516 a oltre 25 mila euro, il gestore dell'attività, segnalato alla prefettura di Vicenza, un dipendente per possesso di marijuana e asci, e 5 grinder. Grazie a tutti.